Da prima provocato, poi spintonato e alla fine fatto cadere a terra. Trauma cranico e cervicale, questo è il danno al ragazzo modicano di 11 anni e adesso è scattata la denuncia della madre ai carabinieri. Il bullo avrebbe agito assieme ad altri due coetani, tant'è che le presi dalla scuola, il plesso di amici, le ha convocati per sabato mattina e non certo per fare loro degli apprezzamenti. Al momento il dirigente scolastico si trova fuori sede e al suo rientro è in programma la convocazione del consiglio di classe per decidere eventuali provvedimenti a carico degli alunni che si sono resi responsabili dell'azione violenta. Già in passato, altri due alunni, in questo caso più grandi di qualche anno, avevano preso di mira nel ragazzino 11enne fuori dalla scuola e con frasi poco gradevoli. Anche in questo caso era intervenuto il preside, richiamando i ragazzi ad un comportamento più consono e nel rispetto degli altri, ma gli episodi sono ripetuti fino a quello fatale allorquando l'undicenne, dopo l'ennesimo attacco, ha sbattuto con violenza la nuca. Al plesso di amici, se nel frattempo quasi nessuno vuole sentire parlare di bullismo, ci si trincera verso quello che viene definito invece un episodio antipatico fra i ragazzi. Eppure il problema rimane, visto che giorni addietro alcuni genitori hanno spostato da una scuola all'altra i propri figli, finiti nel mirino di compagni come dire alquanto aggressivi.